Le recenti celebrazioni connesse al pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli, giunta nella cittadina adriatica il 27 aprile scorso a bordo di un elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara e ripartita il 5 maggio sullo stesso velivolo, hanno consentito di rinsaldare il già significativo legame tra la Guardia di Finanza e il territorio del Basso Molise, in concomitanza con la ricorrenza del 250esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo. L'evento, che ha registrato una forte partecipazione dei fedeli ed è culminato con il solenne pontificale preseduto dal Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin, oltre a costituire un momento particolarmente significativo per la comunità cattolica locale, ha visto infatti il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli impegnato nell'assicurare, in stretta sinergia con le pattuglie operanti a terra, la vigilanza delle acque territoriali, a conferma del ruolo strategico del corpo a presidio del mare e dello spazio aereo sovrastante, contribuendo a garantire l'ordinario svolgimento delle cerimonie. La componente aeronavale della Guardia di Finanza, quale unica forza di Polizia del mare incaricata del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, opera in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, assicurando costantemente il presidio in ambito marittimo, attività quest'ultima che assume particolare rilievo durante il periodo estivo, nonché in occasione di grandi eventi, esibizioni sportive, culturali e manifestazioni a forte richiamo di pubblico. Le fiamme gialle del mare del Molise presidiano quotidianamente le acque territoriali che lambiscono il litorale molisano e le isole tremiti, a tutela dell'economia legale e a contrasto delle attività illecite, comprese quelle connesse al traffico di stupefacenti, nell'ambito delle operazioni internazionali promosse dall'European Border and Coast Guard Agency Frontex. Particolare attenzione inoltre viene assicurata nell'azione di contrasto al lavoro in nero, alla pesca illegale e alle violazioni al codice della navigazione con annessi illeciti ambientali. La flotta in dotazione alla stazione navale di Termoli, composta da vedette e unità minori, dall'inizio dell'anno ha già effettuato attività di vigilanza marittima e costiera lungo il litorale, garantendo sorveglianza 24 ore su 24. L'attività di pattugliamento in mare ha inoltre permesso di sottoporre a controllo 54 imbarcazioni di vario genere, nonché di sanzionare per circa 25.000 euro in violazioni al codice della navigazione per preservare il patrimonio ittico e biologico e salvaguardare la salute umana, con numerosi interventi che si sono conclusi con il sequestro di oltre 900 kg di prodotti ittici non in regola e ulteriori 120 kg di prodotti ittici di vario genere pescati illecitamente. Quindi l'azione svolta dal reparto operativo aeronavale di Termoli testimonia, ancora una volta, l'efficacia del presidio garantito dal corpo a tutela degli interessi dello Stato, dell'Unione Europea, dell'economia legale e dei cittadini.